Api e Giacomo Agostini presentano Omar Sivori. Sivori ci parlerà di calcio naturalmente. Cominciamo dalle basi. Come si colpisce il palone per avere il massimo di potenza e precisione? Il palone va colpito col colo del piede ed è molto importante la posizione del piede di appoggio che deve essere sempre sulla stessa linea del palone ma più o meno vicino a seconda che il tiro sia indirizzato verso sinistra o verso destra. Ci sono poi molti sistemi di stoppare la palla. Quello che vediamo è ottenuto con un calibrato tocco della pianta del piede che serve per spingere il palone in avanti sempre nella direzione nella quale si intende sviluppare l'azione. E veniamo ora al dribbling, una delle mie specialità più apprezzate. La difficoltà sta nell'avere un'assoluta mobilità del corpo per sconcertare e ingannare l'avversario e nello stesso tempo mantenere un completo controllo del palone. Bisogna essere sempre pronto a fermarsi e a scattare con la palla a pochi centimetri del piede. Quando poi il controllo del palo è assoluto ci si può permettere anche di fare cose che mandano in delirio le folle. Visto così sembra facile. Beh, anche correre in moto è facile. È difficile vincere tanti titoli mondiali come hai fatto tu. E anch'io qualcosa da dire. Per tutti coloro che amano il proprio motore, api! Chi conosce il proprio motore, chi lo ascolta, chi ne capisce il linguaggio, sa che con api si vola! Si vola! Si vola! Si vola! Si vola! E si vola sicuri con api lube! Giacomo Agostini ha qualcosa da dire su api lube. Solo questo. Io vado via sicuro quando nel mio motore c'è api lube. Chiedetegli il massimo quando volete.